Un tempo c'erano i lupari, uccidevano l'animale e poi passavano nei paesi a raccogliere la ricompensa. Oggi c'è un'altra sensibilità, non sempre, ma sicuramente cresciuta che porta il lupo a partecipare da protagonista al PIL legato al turismo che passa per l'ambiente. E allora, felice intuizione di Anna Consalvo e Ciro Manente, che per presentare la nostra vita con i lupi, edito da ricerche e redazioni, ha invitato un profondo conoscitore dell'ambiente, uno studioso che fece fare un grande salto di qualità al Parco Nazionale d'Abruzzo. Parliamo del professor Franco Tassi, parla del lupo come di un figlio, lo conosce benissimo. Io mi sono trovato davanti a un lupo che aveva capito tutto di me, ma io non avevo capito niente di lui. Io sono entrato nella gabbia senza sapere se lui mi attaccava o no. È venuto di corsa intorno a me per giocare, si è messo a giocare con me, ma lui mi conosceva, aveva capito che atteggiamento avevo io. Professore, oggi il lupo sembra impazzito, nascono ibridi con i cani che preoccupano l'ecosistema. Un tempo nel branco procreavano il maschio alfa e la femmina alfa. C'è lo zampino dell'uomo? Se io distruggo il branco e mi resta soltanto un maschio vagabondo e questo girando trovo una cagna in calore, allora l'istinto di riproduzione della specie prevale sulla barriera che ci sarebbe normalmente. Anna Consalvo e Ciro Manente hanno il certificato DOC di Amici del Lupo, non uno ma due libri sul canide. Dire controcorrente perché lei è alto a tesina dove vogliono ammazzare i lupi. Eh, ebbene sì, proprio oggi mi è arrivata una mail con un... non parliamo di politica, ma parliamo di lupi. Ecco, ma perché un secondo libro sui lupi? Perché nei momenti in cui sono distante dai lupi ho bisogno di avvicinarmi in qualche modo e scrivere di lupi è un modo per stare loro più vicino. Ciro Manente ci dice che il libro è scritto a quattro mani ma tre sono della moglie, ma se chiedi di raccontare l'incontro con il lupo... Parla con gli occhi all'uomo? Eh sì, quando si fida dell'uomo, nel senso che io sono convinto che il lupo mi abbia seguito per un paio di giorni prima di mostrarsi e quindi ho capito molto probabilmente che io non ero un pericolo per lui e dal tratto, dalla curiosità di vedere da vicino, l'uomo si è avvicinato a me. Franco Tassi è affascinato tutti con i suoi racconti. Ha 81 anni, competenza e sensibilità. Nel suo parlare si trova l'esperienza di un uomo che ha studiato tanto, due lauree in legge e biologia, ma anche ha programmato il nome di una comunità tanto. Negli anni 80 il parco storico italiano compì con l'estensione dei confini un salto di qualità. Non a caso il parco americano di Yellowstone aprì una collaborazione con il piccolo parco abruzzese. Caddero anche tante villette abusive e la cosa non piacque. Non poteva diventare una cementificazione di villette di residenza, doveva rimanere così perché è un patrimonio naturale unico, straordinario. Nel 2002 il Consiglio di Amministrazione del parco lo licenziò dal ruolo di direttore. L'accusa era quella di aver piazzato delle micro spie negli uffici. Il 3 dicembre 2007 fu assolto da ogni accusa. Torna spesso qualche volta a Pescassero. Direi che Pescassero lì non mi attira tantissimo, neanche la mia famiglia è attratta da bei ricordi, però qualche volta mi capita di passare al parco. Devo dire che non trovo più quell'entusiasmo che avevo visto una volta, non trovo più quel tipo di visitatore così motivato, anche se qualcosa c'è che potrebbe anche risorgere. Ma questo dipenderà dalla gente locale, lo deve capire. Non è che può essere imposto dal di fuori, ordinato, decretato.